Come ci avevi promesso Gianluca adesso siamo nell'uva... In uno dei vigneti di verdicchio che l'azienda ha, l'azienda ha 53 ettari globali più 12 ettari di oliveto. Questo è uno dei tanti vigneti che produce questo ettare particolarmente buono e longevo, fresco, acidulo, se consumato giovane oppure invecchiato si può consumare anche nell'arco di 15 anni di vita della bottiglia. Pensate, il verdicchio dei Castelli di Chiesi è una delle doc più antiche d'Italia ed è la doc più premiata da tutte le guide nazionali. Pensate, 14-3 bicchieri solo al verdicchio. Eppure ancora a livello immagine vediamo che quando fanno le varie trasmissioni lì dopo ci sono i potentati anche... Chiaramente siamo una piccola regione, una regione da qua 2 milioni di abitanti. E qui il peso è inevitabilmente... Inevitabilmente proporzionato. Però questo non significa che non abbiamo un grandissimo vitigno e un grandissimo vino. La doc più premiata sta proprio a dimostrare questo. Le eccellenze per la verità non sono per tutti. Non siamo magari di moda, ma il territorio è bellissimo e lui è eccezionale. Sì, questo mi hai detto verdicchio, quindi siamo naturalmente con le tue tre gamme, quello classico, Federico II. E ormai possiamo dire il pluripremiato Utopia, che finalmente quest'anno ha fatto... Se fosse stata nello sport il grande slam, ha vinto tutto di più. Diciamo di sì che Utopia è la nostra bandiera. In questo vigneto esattamente da qui prendiamo da sempre il verdicchio classico, quello che mettiamo poi in bottiglia. Un prodotto già premiato con l'Oscar Qualità Prezzo Nazionale. Insomma, un vino dalle grandi caratteristiche... Sì, ricordiamolo che proprio Gamberò Rosso gli diede il primo premio nazionale per apporto prezzo qualità. Sì, diciamo di sì. Il verdicchio è così. Il verdicchio si fa amare, apprezzare ed è generoso. Riusciamo a metterlo in bottiglia anche a prezzi competitivi. Le Marche riescono a fare questo. Un grande territorio. Tanti produttori tutti uniti sotto un consorzio comune che lavoriamo sodo per rilanciare l'immagine di questo vitigno perché la qualità, noi sappiamo quanto è buona. E quindi una ragione in più per venire nelle Marche a bere verdicchio e berlo nelle varie città italiane. Venirselo a vedere qui perché poi fate anche dei tour quando ci sono... Ovviamente noi facciamo quando ci sono appassionati e non auti li portiamo in giro sui vigneti quando abbiamo l'uva disponibile come adesso nei momenti di agosto o settembre ora siamo in settembre per rendersi conto, per toccare con mano la varietà, la tipologia del grappolo e poi anche assaggiarlo perché no.